Lunedì 12 dicembre 2022 le Alcoin subiscono un dump medio del 4.3% Bitcoin cale a dell'1% Ethereum addirittura dell'1.3% Ma all'interno di questo video andremo a vedere quelle che sono le principali notizie per quanto riguarda Terra Luna Classic E per cui iniziamo subito Benvenuti benvenuti cari amici siamo in questo nuovo video Andiamo subito a vedere i top gainers, i top losers di giornata Osmo meno 9.2% Chiliz meno 8.8% Quindi vediamo che in generale il mercato cripto nel giornato di Erna sta profondamente soffrendo Al contrario troviamo sull'Otom col più 7.3% e Apecoin col più 4.2% Ora andiamo a vedere quello che sta venendo su Terra Luna Classic Perché ci sono importantissimi aggiornamenti Prezzo nominale di 16.540 Market Cap che torna sotto al miliardo volume in questo momento Per circa 60 milioni di dollari Andiamo a vedere quelle che sono le principali proposte Che sono state votate In particolare 5 La 11.030 che servirà a rifinanziare Ok, ribiliterà l'una Due proposte che vengono definiti da classi cripto come degli scam E infine la proposta più importante La 11.018 che va a ristabilire Quello che è l'IBC con Osmosis Quindi questo è in sostanza il riassunto Dei principali proposte che verranno votate E sono state alcune già votate in questi giorni Ora, sempre che l'AssiCripto ci fa un piccolo discorso Dicendo che alcuni validatori sono stati messi in sostanza da parte Perché svolgevano attività non consone Nei confronti dei clienti della Luna Classic E ovviamente ci dice State pronti per l'IBC E secondo punto, secondo me, il più importante È quello della proposta 11.018 Che permetterà proprio l'implementazione Della partnership con Osmos Quindi attenzione Perché in sostanza è stata votata addirittura col 98.77% Quindi l'IBC sta per entrare in vigore Andrò a vederlo poi anche all'interno La roadmap di Terra Luna Classic Ora, sembrerebbe che Donow sia stato avvistato in Serbia Dico la verità Dal mio punto di vista Serbia è un paese Secondo me da stare attenti Per viverci Nel senso che i serbi sono comunque un popolo E io lo conosco bene Da parte della ex Yugoslavia Che non vanno assolutamente leggeri Soprattutto se Facendo parte Ok? Del mercato cripto Quindi io direi Donow Attenzione Io avrei scelto un altro paese Piuttosto che stare in Serbia Vero che il costo della vita è molto basso Però Donow Veramente Te la stai cercando Dal mio punto di vista I paesi dell'est Per tradizione Si sa Non vanno leggeri Soprattutto con i criminali Ora andiamo a vedere quella che è la roadmap di Terra Luna Classic In particolare mi andrei a focalizzare Oramai sui 2023 Perché il 2022 sta finendo Abbiamo visto come c'è stata La partnership con Cosmos E l'obiettivo principale Nel 2023 E dare nuovamente Il repeg Alla Stablecoin Algoritmica Vedremo se andranno a crearne Una nuova Oppure Cercheranno Ok? Di far ripartire Quella già Esistente E se andiamo a vedere Anche in seguito Alla nascita Ok? Di ribelli di Terra Luna In particolare Di Rebel Station Che cosa stiamo vedendo? Che i volumi Man mano Si stanno spostando Proprio su Rebel Station In questo momento Volumi Di circa 15.23 milioni Quindi assolutamente Anomale Se paragonati A Terra Station In questo momento Ha avuto volumi Per 3.35 milioni Quindi sta avvenendo Un vero e proprio Cambio di genetica All'interno Di Terra Luna Classic Per quanto riguarda il Barn Dati sempre uguali Vi ricordo che il Barn Minside Da parte di Binance Però appunto Diventa Minside Quindi non vedremo Grandi stravolgimenti Se non Una volta al mese E al momento È di 35 miliardi Virgola a 6 Con al comando Binance Con circa 20 miliardi Di lunghi Barnati Per quanto riguarda I percentuali Troviamo sempre Al comando Binance Col 34.62% Con circa 2.3 Trillion Di Terra Luna Classic Come possiamo vedere Binance In sostanza Sta mantenendo Quelli che sono I suoi LUNC Al contrario Registriamo Che KuCoin Il secondo Principale Holder Di Terra Luna Classic Al momento Detiene circa 300 milioni Quindi c'è stato Un bel scarico In particolare Nel mese di novembre Da parte di KuCoin Riguardanti LUNC E perché c'è stato E perché c'è stato Questo scarico Da parte KuCoin Io mi son fatto Ok Due domande Secondo me KuCoin Non sta vivendo Una bella situazione E potrebbe essere Anch'esso Prossimo A uno scandalo Stile FTX Perché? Perché sono andate a scaricare Tantissime Alcoin Ma soprattutto Hanno aumentato In maniera esponenziale Quelli che sono Gli API Per quanto riguarda Bitcoin Edithion Per cui Attenzione Perché potremmo Vedere ancora Delle forte dip In particolare A seguito Di qualche exchange Che potrebbe Ancora Essere Insolvente Andiamo a vedere Quello che è il prezzo Di LUNC In questo momento Siamo a 16.511 Qui siamo sui 4 ore Vediamo che abbiamo fatto Un stock RSI Sui 30 Che potenzialmente Ok Poteva implicare Nuovamente Il raggiungimento Di questo supporto A 16.000 Ne parlavamo ieri Come dal mio punto di vista Potevamo riraggiungerlo Abbiamo fatto 16.300 Per cui siamo andati Molto vicini E secondo me Sarebbe interessante Ok Per eventualmente Chi è un trade Sfruttare Ok Quest'area Che si sta creando Tra i 16 Barra 17.000 Dai supporto Sarebbe circa Un 5% Che secondo me È fortemente interessante In ottica Trade Andiamo a vedere Anche sul duole Perché la situazione È identica Come vedete Io ho tracciato Sempre questo Eventuale trade Ovviamente Sto aspettando Eventualmente Tangenza Sui 16.000 Vi ricordo Sto che RSI Che addirittura Sul duole È arrivato A 26 Per cui secondo me Era interessantissima Questa apertura Sotto i 30 Secondo me Non dico che vale tutto Però diventa Diventa una zona Molto ma molto Interessante Per quanto riguarda One hour Stesso Identico Ragionamento Ovviamente La situazione Diventa Ancora più Interessante Perché ovviamente Stoccare RSI va ancora Ad avvassarsi Perché le verazioni Su One hour Sono pingenti Quindi in sostanza Il ragionamento Risulta essere Sempre lo stesso Andiamo a vedere Anche sul daily Sul daily la situazione Cambia Perché abbiamo Comunque un stoccare E 6 a 42 Quindi siamo ancora Fortemente alti E secondo me Prima o poi Questo supporto Di 16.000 Verrà bucato Quindi è breve Si può Eventualmente Andare a tradare Questo supporto Perché dal mio punto di vista Ci sarà una risposta Per quanto riguarda Il long Io penso che Terreno Classic Potrebbe ritornare Ancora una volta In zona 13.6 Questo in sostanza È il mio ragionamento Quello che sta invece Invece avvenendo Sulla stable coin Algoritmica Va tutto Contro tendenza Perché in questo Momento siamo A 2 centesimi 5 Capitazione del mercato Di 245 milioni Volumi Per 28 milioni Quindi abbiamo Avuto una forte Risposta Da parte della stable Guardate qui Sul giornaliero Che bel schero Che abbiamo avuto In particolare La giornata Delle 8 dicembre E visto Quello che sta Andando a costruire In questo momento Che cosa vediamo Sto che le sai Abbiamo questa Importantissima resistenza Sui 55 Se venisse rotta Secondo me Andremo Direttamente Verso Un ipercomprato Dele sai A 70 Ipercomprato Che come parlavamo Da già un po' Di giorni Secondo me Potrebbe Almeno Essere di 3 centesimi Ora infine Andiamo a chiudere Con BTC Perché Buona risposta Ok Sul 2 ore A parte Bitcoin Anche qui Guardate qui Ipercomprato A 26 Successivamente Boom Risposta Proprio in questo momento E Bisogna assolutamente Vedere Se andremo A passare I 17 mila I 17 mila Dal mio punto di vista Che cosa osservo In questo momento Andremo a vederlo Poi sul giornaliero Proprio in questo momento Siamo sui 17 mila Che risultano essere Quello che era Il supporto Ok Per Bitcoin Che è stato Rotto Quindi Sembrerebbe Proprio in questo momento Che i volumi Stiano arrivando E se Bitcoin Andrà a passare I 17 mila E 30 Dollari Allora Potremmo riavere Una risposta Dal mio punto di vista Fino a 17 mila E tre Questa In sostanza È la mia idea Anche perché Se guardate Sul 2 ore C'è ancora Tanto spazio Per prendere Ed andare Su Al contrario Però Che cosa osservo Nel caso Non dovessimo Passare Con forza A questo supporto Potremmo nuovamente Rivedere Zona Prima 16 e 7 E se dovessimo Perdere addirittura I 16 e 7 Come da metracciato Potremmo tornare In zona 16 mila E 100 Dollari Per cui attenzione Vediamo se Bitcoin Avrà forza Servono volumi Questi sono momenti Fatidici Per Quello che è il futuro Di Bitcoin In questo momento Io vi dico la verità Non sono assolutamente Bullish Perché domani Ci sarà LFOMC Verranno Indicati Quelli che sono I tassi interesse Per cui state Molto Ma molto Atenti A tradare In questo Momento Infine Andiamo a chiudere Con il giornaliero Perché sul giornaliero Che cosa osserviamo Osserviamo È vero che Bitcoin Ha rotto Questa resistenza Su RSI Su RSI Di 48 Adeditura Siamo arrivati A 51 Però È proprio In questo momento Che si sta Giocando La partita Ora Due sono ipotesi O Quest'RSI Ci va a fare Da supporto Quindi Andiamo su E andiamo a raggiungere Quello che secondo me È il livello massimo Che potrebbe raggiungere Il Bitcoin In breve Cioè I 18.200 Dollari Il che Secondo me È fortemente probabile Visto che anche domani Ci sarà l'FOMC Però potrebbe anche Che cosa avvenire Che magari Bitcoin Oggi fa Tra virgolette Un Skyrockets Prende e va su Domani è FOMC Qui escono i dati È boom giù Quindi dal mio punto di vista Che cosa potrebbe succedere Riassumendo Se Giornata di oggi Prendiamo Andiamo su Domani Praticamente È quasi certo Che prenderemo Andremo giù In seguito Ai dati Delle off FOMC Al contrario Se Bitcoin Dovesse Nella giornata odierna Prendere E andare giù E secondo me È molto improbabile Che oggi Prendiamo Andiamo giù Con forza Ma i giornati Domani I dati Potrebbero essere Buoni Se confrontati Rispetto Alla giornata Odierna Quindi Vedremo quello Che verrà oggi Nel caso di risposta Da parte di Bitcoin Nella giornata odierna Domani Prevedo Ok dump Se Al contrario Ci fosse oggi Un dump Prevedo Che domani In seguito Alle notizie Potremmo avere Una bull flag E per cui Se ti è piaciuto Questo video Ti ricordo Di suggerire Il like Iscriviti Il canale E ci vediamo presto E ci vediamo